Buon salve a tutti miei carissimi, io sono Jule e con quest'alba semplicemente mozzafiato vi do il benvenuto su Genshin Impact. Oggi, ebbene sì, andiamo a prenderci Klee. Adesso vi porto in quello che credo che sia il punto più alto dell'attuale mappa del mondo. È un luogo davvero 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 carino, non voglio spoilerare come ci si arriva, c'è diciamo una piccola missione, nemmeno troppo difficile. E io voglio andare nel posto più alto, precisamente qua sopra. Guardate che vista, dov'è il sole? Ah mi sa che già so, eccolo là, cioè guardate che meraviglia. Veramente, questo gioco regala delle chicche mica da poco. Ma noi non siamo qui solo per goderci il panorama, abbiamo una bimbetta da trovare. Ma prima di iniziare, mi raccomando, se non avete visto la prima parte della mia sessione di evocazioni dal banner di Klee, filate subito a vederla e poi tornate qui per scoprire come va a finire. Eccoci tornati sul banner di Klee, sappiate che Genshin Impact per quanto riguarda il P.T. è severo a livello di numeri di multi che servono per ottenere il 5 stelle, ma allo stesso tempo è anche, come dire, caritatevole, perché se non trovate il 5 stelle in focus, che in questo caso è Klee, dopo il primo P.T., il secondo P.T. ve lo assicura al 100%, per cui il mio prossimo 5 stelle, anche se non dovesse uscire da P.T., tra l'altro, il prossimo 5 stelle che mi esce è Klee, ragazzi, al 100%, ed è per questo che ho deciso di fare un ulteriore investimento di compleanno su questo banner. Mamma mia, Genshin Impact, basta, ho speso veramente troppo, ma se non altro so che è una spesa che va a darmi qualcosa, e non come invece succede nei gacha di solito, dove spesso si spende tanto e non si ottiene nulla indietro. Detto questo, spero a questo punto di terminare il mio Shinju e di maxarlo, spero di trovare altre copie di Sucrose, e vediamo, spero anche magari in qualche armetta, ma la cosa che spero di più, ragazzi, sono sincera, è che Klee sia brava, che Klee sia buona e che mi esca prima del P.T. Per favore, Klee, tesoro mio, io direi che ti ho già dimostrato abbastanza dedizione, per cui fai la brava, e vieni a casina che io e Venti ti stiamo aspettando sulla cima del mondo, pensa a te quanto ti vogliamo bene. Primo desiderio e si ricomincia la scalata verso il P.T. Quattro stelle. Tra l'altro, nello scorso video abbiamo anche scoperto che a volte, quando si evoca un 5 stelle, si sente la sua voce nell'anteprima, sapete che è una cosa che non avevo assolutamente mai visto in un video, non ne avevo mai sentito parlare, non sapevo che si sentisse la voce. È una cosa particolare, però allo stesso tempo distrugge le tue speranze. Ok, Noelle, Noelle mi sa che me ne manca una, e le ho maxato le costellazioni, il che vuol dire che la allenerò, ragazzi. Un'occasione gliela devo dare, anche perché non ho altri personaggi Geo. Per favore, gioco, basta Noelle, adesso. Basta Noelle, ce l'abbiamo già stramaxata. Spero negli altri due, quattro stelle, se proprio devo trovare un quattro stelle, ma Klee, io spero ancora in te. Seconda multi. Vieni tesoro. Quattro stelle. Vediamo un po'. Ravenbow. Magic Guide. Le armi a tre stelle non sto a commentarle, secondo me le conoscerete a memoria pure voi, ragazzi. Non penso di essere l'unica. Eh, un libro. Sacrificial Fragments. Questo l'abbiamo trovato anche l'ultima volta. Thrilling Tales of Dragon Slayer. Mi sa che è una minima. Però sapete com'è? Preferisco le armi a questo punto. Preferisco decisamente le armi a un'altra Noelle. Questo libro ha l'effetto Sacrificial, sempre quello, ovvero quello che comunque vi aumenta, cioè, vi dà una probabilità di terminare il cooldown della skill. E devo dire che trovare doppioni degli oggetti Sacrificial non è affatto male, poiché andate ad aumentare la percentuale. Sapete com'è? Aumentando la percentuale, l'arma diventa decisamente più interessante. Un personaggio che può spammare le skill elementali. Tanta roba nei team giusti. Comunque andiamo avanti, andiamo con la terza multi. Climia cara, ti attendo. Altro 4 stelle. Siamo a 3. Emerald Orb. Un'altra Emerald Orb di fila. Uh, sucrose. Molto bene. Molto bene, dovrebbe essere la terza. Qualsiasi cosa che non sia Noel ci va bene. Eh, appena detto. Ecco qua, Noel. Questa dovrebbe essere in più. Mi sa che è in più. Oppure era l'ultima. Avanti. Forza Klee. Mi stai già facendo soffrire abbastanza. Ringrazia che ti amo, Klee. Ancora un 4. Emerald. Vabbè, libri. Debate Club. Spadonza. Archetto. Qui non abbiamo il personaggio assicurato. In teoria. Perché su cross è uscita... No, non abbiamo il personaggio assicurato. E invece abbiamo Shinju. Non so se sia assicurato o cosa, ma Shinju ci va benissimo. Mi manca uno Shinju, credo. E poi l'ho finito. Avanti. Klee. Klee. Ancora niente. Mamma mia, sta bimbetta. Vuole proprio... Vuole proprio svenarmi. Vuole proprio svenarmi. Magic Guide. Questo è il motivo per cui... Non vi consiglio di inseguire un 5-6. A meno che non abbiate tante, tante, tante risorse. So che questo gioco purtroppo non ne dà tantissime. Ma sappiate che se lo volete a tutti i costi... Vi tocca andare al P.T. Perché la percentuale è veramente bassa. Rust. Questo arco ce l'ho già. Ed è un arco molto forte su un arciere DPS. Io l'ho provato su Fischl. Non sono super fan della build da DPS di Fischl. Probabilmente avendo adesso il doppio rust, le darò un'altra possibilità. Vedremo. Comunque. Dovremmo essere alla quinta multi? Sesta multi? Il P.T. è vicino? Speriamo di non arrivarci? Speriamo di non arrivarci, ragazzi. Klee! Adesso. Adesso, per favore, tesoro. Vieni fuori adesso. Abbiamo giocato abbastanza. Sono stufa di giocare a nascondino. Sono un po' grande per il nascondino. Vieni. È timidissima sta ragazza. Sta ragazzina. È proprio timidina. Si sta facendo desiderare. Sucrose. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Mi sta andando bene, ragazzi, perché avrei potuto beccarmi. Mamma mia, quante Noelle. Ne ho prese tante, però ho preso anche molti sucrose. Molte sucrose e molti shinshu. Quindi, perlomeno, diciamo che l'investimento nel banner ha qualcosa evalso oltre a Klee. Ok, sucrose. Anche questa sta diventando enorme. Mamma mia, venti. Hai una rivale? Klee! Qua mi sa che andiamo al piti. Eh, mi sa proprio che si va al piti, ragazzi. Manca poco. Barbara a caso! Barbarella! Beh, Barbara va bene. Non ce l'ho maxata. Ne ho due, mi pare. Sucrose, anche Sucrose dovrei averla finita. Barbarella! Che viene a trovarmi così? Può venirmi a trovare anche una Fischel? Accetto anche Fischel, eh? Che le vorrei alzare la costellazione. Guarda a te la Barbarella! Ha fatto la sorpresa di complano. Barbarella, Barbarella, mi stai dicendo qualcosa? Mi stai dicendo che arriva... Mi stai dicendo che arriva Klee? Lo spero, perché mancano, mi sa... Due multi? Poi abbiamo fatto il piti? Tesoro, Klee? Come, please. Come, please. È qua. È qua. Questo è un loading. È lei! È lei, ragazzi! Ho sentito la voce! Hanno messo quindi che senti la voce del 5 stelle che trovi? Quanto mi sei costata, cocca bella? Quanto mi sei costata? Però sei veramente... Eh, Noelle! Noelle a chiusura. Eh! Lo Stringless! Lo Stringless! Questo è enorme, ragazzi. Questo è enorme. Questo va su 20. Alla velocità della luce, proprio. Alla velocità della luce! Grande Stringless! Sta multi è già enorme. Ah! Tesoro. My dear! La mia tesora! Guarda, Klee, hai tipo prosciugato... Mamma mia, sta multi incredibile. Questo arco, ragazzi, parlo dell'arco perché il piatto forte lo tengo per ultima. Questo arco su 20. Tanta roba! Tanta roba! E poi è bellissimo. E poi è veramente un arco stupendo. Per cui sono molto contenta. Eh, al posto di Noelle avrei preferito qualcun altro. Non lo nego. Noelle l'ho già strafinita. Ma l'importante è che abbiamo lei. Se non mi sbaglio, tra l'altro, ha una multi dal Piti. È stupenda. È stupenda, ragazzi. È... Io non ho parole per esprimere quanto mi piace questo design. Non avrò parole, ma diciamo che a fatti l'ho dimostrato. Non è da me spendere così tanto per un gaccia. Ve lo assicuro. Non è da me. Ma era garantita. Me la dovevo prendere. Senza contare poi che Klee è anche limitata, per chi non lo sapesse. Immagino che lo sappiate. Esattamente come 20. Loro non sono aggiunti poi al banner generico dei 5 stelle. Quindi non è che li potete trovare a sorpresa più tardi. Insomma. C'erano le condizioni. Era il mio compleanno. Io me la sono presa. E sono molto contenta. Devo dire che le evocazioni sono comunque andate benissimo. Benissimo. Ho credo trovato tutto ciò che volevo. Per cui non mi posso assolutamente lamentare. Sì, l'ho trovata all'ottantesima. L'ho trovata all'ottantesima. Quindi sì, non siamo proprio andati a Piti. Secondo me anche Keqing mi era uscita all'ottantesima. Eccola! Ah, l'adoro! La adoro! La adoro! La adoro! Ti prego, fammi vedere come lanci le bombe. Lancia questa bomba! No, io l'amo. Io l'amo. Io l'amo. Io l'amo. Tra l'altro è insieme a Barbara il mio secondo personaggio che usa la magia. Quanto è carina. Io scusatemi se mi ripeto, ma vi giuro. Questo design mi fa andare giù di testa. Cioè, dieci su dieci. Dieci su dieci. You nailed the design, ok? Allora, i due libri che abbiamo evocato sono il Sacrificial Fragment che, come già detto... Mentre questo qua, ragazzi, attenzione. Quando un personaggio entra in campo, ottiene una random teen song per dieci secondi. Quindi una canzone a tema per dieci secondi. Questo accade una volta ogni trenta secondi. Il recitative aumenta del sessanta per cento l'attacco. L'aria aumenta tutti i danni elementari del 48 per cento. L'interludio, l'elemental master aumentata del 240. Posso dire che questo libro mi sembra un cannone. Mi sembra un cannone senza paragone. Io le do assolutamente questo libro. Cioè, non ho motivo per non darle questo. Sessanta per cento, quarantotto e duecentoquaranta. Spaziale. Prenditi immediatamente questo libro, Klee. No, la costellazione è a forma di quadrifoglio. Adoro. Vediamo un po' i talenti. Beh, abbiamo il Kaboom, abbiamo il Jumpty Dumpty, Spark and Splash. Oh, questo è molto utile per l'esplorazione. Quindi lei è anche un personaggio utile da mettere in un team esplorativo. Adesso però mettiamo un attimo Klee in pausa. Perché qui abbiamo delle costellazioni da tirare su. Allora. Sapete che temo che mi manchi uno Shinchu? Allora, gli sblocco la prima, che aumenta la Rain Sword di uno. Poi gli sblocco la seconda e questa è enorme. Perché diminuisce la resistenza idro dei nemici. Questo è il motivo per cui trovo Shinchu una bomba abbinato a Mona. Poi abbiamo Weaver of Versus. Che aumenta il livello, mi aumenta il livello di Rain Cutter. E sblocchiamo anche questa. E poi mi sa che abbiamo l'ultima. Eh no, ce ne mancavano due di Shinchu. Allora avrei preferito prendere meno Noelle. 50% in più di danno? Mia! E Shinchu è diventato bello grosso. Aumento anche la costellazione di Barbarella. Eccoci qua, prendiamo Vitality Burst. E questo scomba bene proprio con Shinchu. Perché posso curarlo e aumentargli i danni. E scomba benissimo con Mona. Dopodiché andiamo dalla Noelle. Che vabbè... 6! 6? Allora sapete che mi sa che anche Noelle l'ho fatta pari? Oh, io credevo di averne trovata in più. Eh sì, e lei l'abbiamo completata. Sweeping Time aumenta l'attacco di Noelle. Sul 50% della difesa. Questa ragazzi è un'abilità enorme. Enorme perché rende Noelle un ottimo DPS. Lo so, è costosa come situazione. Perché dovete maxarle la costellazione. Ma sicuramente valuterò di buildare questa signorina qua. Perché con una costellazione del genere... Eh, un'occasione bisogna dargliela. Terminiamo con Sucrose. Di Sucrose... Ne ho trovate 4 esattamente come Shinchu. Per cui anche di lei me ne mancano 2. Non fa niente. In ogni caso, le abbiamo tirato su già buona parte della costellazione. Anche lei, una volta ultimato il main team, è un personaggio che sinceramente mi interesserebbe provare. E questo è tutto, miei cari. Io spero che abbiate gradito queste evocazioni. Queste tantissime evocazioni. Non posso chiaramente darvi delle scadenze. Io non lo so, magari il gioco a breve diventerà molto più gentile e regalerà risorse free to play a destra manca. Questo non si può sapere. Però per il momento, non solo non voglio evocare per non andare a spendere altre risorse. Ma non voglio evocare poiché io ho tutto quello che mi serve per godermi il gioco, ragazzi. Ho tutto quello che mi serve per provare vari team. E ho tutto quello che mi serve per portarvi parecchi contenuti su questo gioco. Con le idee non mancano e non vedo letteralmente l'ora di proporvele. Detto questo, da Giulia è tutto. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, se volete rimanere aggiornati sulle mie future pubblicazioni, innanzitutto lasciate un mi piace così mi fate capire che i miei contenuti su Genshin Impact vi piacciono. E poi magari iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina in modo da ricevere sempre una simpatica notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Se cercate inoltre una community italiana di Genshin Impact dove ricevere consigli, condividere le vostre vocazioni o parlare delle builds dei personaggi piuttosto che del gioco in generale, trovate il link al mio Discord in descrizione. Potrete accedere e troverete una sezione interamente dedicata a questo fantastico gioco. Detto questo, da Jul e Klee è tutto. Noi ci vediamo con i prossimi video su Genshin Impact. Ciao! Ciao!